Luca Laurenti nell'occhio del ciclione, ecco dove è stato beccato il maestro.Luca Laurenti nelle ultime settimane ha scatenato i gossip Il presentatore di Avanti un altro da anni accanto a Paolo Bonolis sembra aver litigato con il marito di Sonia Bungarelli, ma per ora non ci sono notizie certe sul presunto pettegolezzo Il maestro di canto, inoltre, è stato beccato accanto ad una nota showgirl.Vediamo nei dettagli cosa è accaduto Luca Laurenti ha litigato con Paolo Bonolis.Di domanda.Luca Laurenti non smette di far parlare i gossip Il maestro pare abbia avuto qualche problema con Paolo Bonolis.La notizia della loro rottura circola in rete da diverso tempo e per ora non trova nessuna conferma L'unica cosa certa è che dal 2019 Paolo Bonolis inizierà una nuova avventura con Avanti un altro, e avrà accanto quasi sicuramente Laurenti Quindi, sembrerebbe che le voci di corridoio alimentate nell'ultimo periodo siano solamente frutto di invidia Luca Laurenti beccato accanto ad una nota showgirl.Diversamente da Bonolis, Luca non ha mai condotto un programma televisivo da solo Recentemente Paolo è stato ospite di Maurizio Costanzo per una lunga intervista, dove si è lasciato andare a 360 gradi Laurenti, invece, negli ultimi giorni è riapparso in tv accanto a Giuliana Moreira La compagna di Edoardo Stoppa insieme al maestro, sono impegnati per uno spot pubblicitario dove pubblicizzano la marca di un noto caffè Luca Laurenti impegnato per uno spot.Dalla rete era circolata una brutta voce Qualcuno, infatti, aveva rivelato che Luca Laurenti era stato beccato in intimo accanto alla giovane Giuliana Moreira A quanto pare i due sono stati visti assieme solo ed esclusivamente per lavoro dove entrambi come già anticipato precedentemente fanno parte di uno spot pubblicitario Per ora quindi, i fan della mitica coppia composta dall'amante degli animali e dalla brasiliana possono dormire sogni tranquilli Per ora, i fan dell'amante degli animali e delam interessi Per ora, i fan di un'amante degli animali e delamor